e quali di marina ben saluto ciao seppo buonanotte a domani domani ma vero è mezzanotte ecco per chi vuole andare a dormire pensavo no ma che dormire ma devo risparmiare come devi risparmiare che cosa c'ho in gina mare attaccati ah ecco vabbè ma vai no però vai a dormire dico no o no o di guardia dico no 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 mi guardo un po di netflix ecco l'intesa o mai o mai con netflix ma mi messi ma vedi che netflix di di video di condizioni carichi e le guardi offline eh infatti questo qua c'è un po' che si fa vabbè bella raga ciao bella bella buonanotte e finì un'autosap c'è qualcuno che vuole entrare? il stick io la vedo abbastanza preoccupato stasera pensieri in testa ma chi? oh io? eh io tu pensierosso no no quale pensierosso? stavo leggendo whatsapp c'è Nicolò che vuole entrare Nicolò vabbè non c'è nessuno facciamo del set però ma proviamo di sta squadra eh? non no no ma è stato da c'è la tua skin preferita è bella prossima Comunque Davide io stavo un giorno che a priori e poi mi sono accorto che ho portato la live e tu non c'eri Ah, che dicevi? Ero preso del dialogo Guarda la skin che ho preso, ora dove gli faccio vedere la skin che ho preso Ah ok E' la skin preferita Ed è il passo giusto? E' del passo Si Pingate Pingate Andiamo qua Comunque quando siete nel bus se premete il fergetto in basso ringraziate il bus Vero? Si, lo sapevi? Si E che succede se ringraziate il bus? E poi ti aumenta anche un po' di livello Ah ma comunque dal controller si fa con la freccia in basso Si io la faccio con la freccietta in basso, la frecciettina piccola No, sulla tastiera la freccietta in basso Eh, sulla tastiera B mi pare B Si, si che lo è B Un bel tuffo in piscina No Mi hai tutto di sta prendendo Aspetta Meglio il tuffo in piscina, va Vediamo che trovo Allora Dai, io comunque sono tentato di prendere la skin quella Ma come cazzo è possibile? Che è successo? Forse sta laggando, non ci funziona No, no, tranquilla Sto cazzo di fucile è una merda Meno male Non so come ho fatto a non morire Vabbè, ti sei un bro flyer No, è picchi chido, era un bot forse Tu rigo io Da gli bot, sei un bot Ah, c'è nel tuo qua Guarda, li brucio tutti, guarda Ha bruciati, a casa a bruciati Comandone Quando bruciavano la cazzo Bruciati, bruciati, bruciati E glielo bruciati però Oh, guarda, si è qui Oh, tieni, tu uno scendino piccolo Ti può servire Qua da me Lì dietro Ti può giocare Oh, ma sai Stava facendo lo scendone Con il corpo di grazie Taxi No, no, mia Gabriele Porco di Ma perché sei Ma perché dovete Aiuto Mi dice a Ross Se può giocare dopo Vista Sì, ora ho il quarto Qua, nemico Ammazzo con la macchina Lo inserisco Eh, il dedo labbro No, vai È morto? Sì, ora ho il mare Sì, è morto Ok Vediamo se ce ne è altri Io controllo con la mia macchina Questo è meglio del carammato Oh, mi è sciato Benzina Benzina Guarda la skin che ti dicevo prima Belle goci Ci viremo Minchia Ciancio Aspetta 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 Chi è questa La scuola Togliatevi Togliatevi Spoglio tutto Che l'esplosione suprema Tagliatevi A me Bellissimo Aspetta Ti serve cura Te lo toio C'è un medikit Le band Vedi che tu non le hai Eh, no Però forse posso controllare Se ce n'è qua qualcuno Vediamo Ci sono i funchi qua Anche lo flupo Ah, vabbè Aspetta Mi sono rinforzato Perché là c'è il calo Vediamo Supero Ma che è No, è Seba Ma che è che Mi sta guardando un corno È Seba, è Seba Che è Su Netflix Ah, ok Pensavo che fosse una cosa No, ti parliamo La live Sì Vediamo Ci ne fa l'ho Ciao G Dimmi Ragazzi Che facciamo Ah, vabbè Siamo in safe Stamunica È a meglio cosa Ancora io non ho capito Che sono queste cose rosse Che i cerchetti così No, niente Saranno delle cose future Per la season Sembrano Il DNA Ma che è Ti sei Ti sei Io sto qua dentro Deve avere la sab Jimmy Che mangi di buono Dai Guarda Guarda Dile Un gelato Che ti adoro Glovo Bello Ma consegnano pure a questa ora carri armato sta arrivando Un'ora un'oretta farò Andiamo ce ne c'è un carri armato Ma io pensavo che stavi scherzando No, no, sta arrivando E scappiamo Davide Ne c'è sfoglio Ne c'è sfoglio Stiamo adesso di qua Melon Perché fai scappi? Eeeh Lasciatele stare le macchine Ah vabbè Davide se l'è portata Io me la volevo prendere Gente? Qua sotto? Oh no 86 Ah ci butto 6 bombe Ah li ha durito Uno è bianco Naruto è bianco Non riesco a compigli Naruto a terra Naruto Eh a bombola Tu scoppiai Buono Speriamo che sia un bello bomba Di chi non pede il numero uno Ah ha uno l'ave Pappete Io col termine ragazzi Volete un termico blu Io non ci so giocare col termine Anche io Comunque mi sono risreduto Io sul bar No 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 Fa schifo questo Saliamo qua sopra Tipo Dritto dritto Ci dobbiamo sbrigare No assoluto di là Prendiamoci la macchina Ottimo spray Prendiamoci No perché c'è il carro armato In questa direzione Quindi ci sentono Secondo me non conviene Prendere la macchina Poi fate voi Ah beh Arriviamo in safe Io me la prendo Davide vuoi un passaggio No Ero un mondesto Dentri davanti a me No me la porto io Il passeggino Ah là sono Ah li vado a compiere Mi sacrifico Ah stanno morendo Tipo scarafaggi Ora vi veste Aspiravo avvero umana Vai Gabriele faccia di vedere qua Faccia di vedere Agisciando che ho volto Cane il bar Oh l'auto si parla Cacco si parla Uno l'ho ammazzato Sta scoppiando Ma dove sono uscito Alla fine cruise E' molto E' molto bruciato Mi pare che sono morti tutti Guarda Il fungore Stava volando Sono morti Mi sa Bruciati Spagliati 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 Andiamo in sei Attendo che bruci Attento Che bruci Attento che bruci A me mi smira troppo E non so come fare C'è un bug su questa mitraglietta Ah ecco infatti Praticamente Prima di iniziare a sparare Miri Verso il basso Guardi verso il basso E poi inizia a sparare Verso il nemico Non ti smira Allora C'è ma prima Prima devo sparare In basso Allora No 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 Basta che guardi in basso Velocemente E poi inizia a sparare Ah si Speriamo che risolvano Però su bug L'ho visto ieri Dazzano Che ieri Dazzano E' sempre sul pezzo Sabi Tutti i bug Faccio ancora La modalità Del controller Chi è Nel È un pro player Di fortnite Ma È veloce Di ne sa Visti Così E' veloce Di ne sa Visti Così Ma C'è ancora La modalità Del controller Che tu Se lo giri E Fa la mira Gente qua dietro Che arrivo E però Non ho Una macchina Se mi trovate Una macchina Faccio La sassi Faccio La strage A tipo Lucan Oh La safe Scindica Scindica Davide Scindica Davide Scindica Pare Si Un personaggio Di Cialelone Con Ma Guarda Che Chiano Di Inserisco Io So Fai Tante Voci I Lupi Ah no È Il Trongo Bisogna Mori Lupi Andiamo 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 Ma Chi sta Facendo Da Ciancio Vieni C'erano Delle Persone Fuori Safe Io So Fare Un po La voce Rientrare Quella Che Fa Era un Butto Spirker Dax Quello Lì Ah Un Bene Cianno Da Dove Fai Car Armato Due Car Armando Dove Siete Voi Io Lì Vengo Dove So Sti Car Armati Cacchiane Sparate Non Fatinenti Per Favore Molti E Stato Venite Verso Lì Così Cerchiamo Di Evitare Perché Se Ci Iniziano Sparare Sono Due Gare Armati Di Due Team Diversi Perché Sono Che Stanno Stanno Fai Tanto Io Mi Sono Pesso Una Macchina Così Se C'è Qualche Nemico Li Ammazzo Faccio Tipo Aspirapopper Ma se C'è Armato Ti Fa Saltare Tanto Mi Mi Ha Checchinato Qualcuno Sarà Qui Attenzione Perché C'è Uno Con Cecchino Ma Uno Con Caramato Si E Preso Il Rift Ragazzi Bellissimo Anche Io C'è C'è Votto L'ho Fatto Sono Io Con La Macchina Ti Vengo Ad Aiutare Uno L'ho Messo Il Soccorso La Piene Però Mi Devi Investire La Terra Ce n'era Un altro Contendere Un B Ma Fino Sta Chiudendo La Safe Andiamo In Safe Andiamo In Safe Vai Oh Che Gabriele Retroturisti Non Vigliare Spide I Magini Gabriele Andiamo C'è Andiamo C'è Via Purtroppo Voglio Voglio Guidare Vai Ne Guarda Sono Salito Sono Salito Nel Caramano Guarda Contorno Lui Guarda Con In Sessione Guarda Sono Salito Nel Caramano Oh Mi È Pronto Uno Aiutate Venite Ammazzate Alcuni Col Caramano Li Stavo Spaccando E Ora Non Si Può Costruire Non Si Può Andare Da So Ho Fatto La Faccia Per 2 Minuti Lo Spaccate C'è Un po Di Giocato Un po' Un po' Di Un po' a posto e volo e vabbè secondi dai bella partita ma ti stai ricordando ancora di me giusto si davide giusto no chi sei ma sono gabriere ma non ti ricordi l'amico di mano l'ultima volta non mi avevo riconosciuto e io mi scordo le cose no gallotta vai sono sono con si ma chi c'è Gesù Gesù c'è anche la telecamera no non c'è niente la telecamera scusa scusa buon Natale ciao ciao ma c'è Gesù qua vero con la barbona sono tornato nella lobby chi c'era che doveva giocare connor vai vai connor manda manda e qua è connor qua è ah già è ah perfetto già è unito qua Giorgio mare perché non diventi come questa skin capa nini facciamo un sito per la felicità di dragone bata ma non te la metti più batman no per il momento mi piace qua il leoncino bella quella skin a dove non mi frega niente di cosa ross connor ma non puoi parlare connor e finì connor no mi sai non puoi parlare qua sei a mezzanotte per questo ciao Ale guarda che bella la skin guarda che bella dove ci buttiamo la tuffa bomba ciao velibuli ma che siete nuovi oggi tutti nuovi stavate con perlano giova skiller ma riserva di datman style ma è che io ne state calando siete tutti nuovi vabbè ragazzi c'è ma il boschetto oppure andiamo a campo delle coccole ma c'è ma tante coccole va avanti quello blu ok Comunque ho notato che tutti quanti quando entrano mi dicono Davide ti seguo dai tempi di Davide ti seguo dai tempi di Davide ora devi provare magari questa cosa mi ne chiedi è tipo una storia mi trovai un di Gianluca Raiden ci scrivo di Gianluca ti seguo dai tempi in cui vineva a mia casa a giocare con FIFA è tipo una storia ai tempi c'era Davide chi lo conoscevate con no Raiden siamo conosciuti sempre quando lui all'inizio lui si è aperto il canale io ho capito ho saputo che lui era di Catania poi ci siamo lui è venuto pure a casa mia una volta abbiamo giocato con FIFA poi lui è diventato erano i tempi di Beppa P quando io facevo Beppa P cioè lui tipo non se lo cagava nessuno e io ero troppo famosissimo poi le cose si sono invertite poi comunque lui si è sposato insomma era un po più occupato a livello di vita quindi poi non ci siamo arriviamo 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 ogni volta quando sento le parole c'è una bombola c'è una bombola spietola e già l'ho buttata c'è già il tasto buon tempo mi vuole sputtare per me taglio a bel doculo ciao mister stigme ok ok un caramba e avanti c'è da roto vipo ne 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 poter me metti vedi cosa dovolta e finito vedi su con la beva su calavera non la bevo su calavera fanghette di verso calavera no mi fa schifo a me ti giuro a me mi piace su calavera è buono e se vuoi hai le carte regola per diventare un cambiamento di bomba che ti ricetta guarda gialla e blu quelle grigie ma che avevi messo il botto ma questo qua non non sparargli no lo so il nostro amico tanto non ci posso fare nemmeno danno ma si possono pescare pure i pezzi perché non ne pesca un poco facciamo sunbay sunbay ragazzi ora vi faccio ora vi faccio vedere no aspetta vedere ora vi faccio vedere come ci vedevo io la sera quando ero in piazza teatro ragazzi ti vorrà passi da lì aspetta che arrivo a così ci vediamo a sì vabbè aveva utemico aveva la visione termica po pacchio siamo un paio alcuno da quando potrei alex entravi una retta fatta con giovanta che ci faccio domani c'è l'aggiornamento quindi puller o aiato 250 per aiato mi sembra che è domani no l'aggiornamento sono sbagliato spiace che so è una parola parlociano belle corrette spizzi corretto rigorosamente spritz corretti spizzi romano quando scostava davide l'insegno un segreto per ammazzare un attimo gabriele un attimo torre di avere la sala fai mi rispondere un attimo alla chat vabbè in posto è un periodo automatico mentre mangi davide questo qua è per te guarda lo puoi fare tu ti vuoi ammazzare i nemici con questo con lo squalo vedi giova giova non ci gioco più ci giocavo lo portavo fifa poi mi sono mi sono peccato dopo l'uscita dei topi mi giocava la ceramella troppa fifa andiamo squalo è diventato nostro amico si mangia i nemici è una bella domanda se lo chiedono anche i sottori non lo so devi chiedere all'epatologo lo garibbato scappa quello scappa che c'è caramato ma qua vedo solo può aspetto no vabbè se ne è andato se ne è andato ma questo c'è un paura là sotto c'era un paura tu pigasti no ci pigiamo quanto facesti il fondimento ma che giorno devo andare alla meccanina delle pulci ma non lo so se apre ancora avendo un cassino di corso gabrile invece piccola di stagas sembra casa che vado buono buono tanto io non è fatto tu nella cosa fai qualcosa in questo periodo oppure c'è non so lavori studi oppure no quindi stai a casa a giocare sì perché non ti apri un canale non so twitch youtube di che tolchi tiktok già ce l'ho ti seguo ah c'hai tiktok io dopo ti vado dopo ti ho sbendo ti vado vado a vedere due tiktok ti sbendo un cacco tutta chat no scherzo scherzi io ho dei video ma ti ho visto su tiktok ma lo sai guardando questa partita ma che è ma lo sai sembra un fono gigante occhio con loro che là c'è il bot davide leggimi non lo ammazzare non lo ammazzare è finito condor no non vi avvicinate ragazzi non riesco a giocare a leggere mi dispiace io salvo ma vuoi che spara è pot minchia ma tu assai ah ma è anche lì medici si necessario bigari bigari lì mi sono la sotto dico state attenti perché sono nel palazzo lì dopo la tc ma dopo questi boss maledetti tutti non sono la casa è morto è finito ma che c'è un tra come si gioca a palla aspetta che vi lancio il giocattolo va di sicuro non come l'italia con la macedonia guarda oh faccio i punti guarda no che è sto rumore caramato no mi facessi staudare il narare sembrava che c'era qualcuno aspetta aspettatemi davide siamo col caramato oh e chi ho capare pulista bicicletta pedala paro titanic il suono da titanic quando affondo la nave perché c'è un altro caramato questo no ma come no e chi ci chiama i suono è nascosto siamo con due caramatico va io mi metto a sparare sparare tre minchiate non ci compite siamo noi io sono abbassato facciamo gli altri suona suona davide con la faccetta in basso mi sembra vai demoliamo tutto guarda come ci evitano tutti quanti come si stanno nascondendo ecco noi siamo gli amici di putin noi dobbiamo i caramati no la benzina no 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 eh finiamo i caramati c'è qualcuno la vabbè io non ho il suo che non mi si dì è bello che uso io ce n'è ancora benzina ce n'è ancora più e ora vediamo cerchiamo perché io ho la cosa del riparatore il riparatore è per riparare la benzina è un'altra cosa eh lo so però vediamo se trovo la benzina ragazzi voi dove siete chi ne scompariamo no stiamo mettendo la benzina arrivando ce la potevano lasciare un po' con noi e cosa sai e viene di latigliare cosa sai a benzina perché ci sono solo tronchi tronchi magari magari duplo questa è la paglia trovati medica le solite minchiate comunque ho consumato pochissimi cica quasi quasi torno no non ti volevamo più i seb seb ormai hai messo il turno ci sono altre persone che devono giocare mi spiace I'm sorry I'm sorry ma non ce n'è benzina oh mi fatti picchiare o poco mi fatti picchiare che cazzo X a che si è scatenato assassino guarda l'ho riparato male ma sai per 9 io non riesco a fare ma chi sono sono ammocciati ma perché camperano tutti quanti ma pure noi in pubblica camperano ma è vero che siamo a 106 non mi direi di metterlo più grande non mi fai mai 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 non è stato ridicolo non è nocico è una palla ce l'ho io è sto un campiano povero un campiano hai venduto la compagno chiedo tutto sto bottolo per un ranger di merda vaffanculo alle 9 ma sono buttato in qualche figlio ciancio mi stai facendo scudare un polmone ma dove sono? posso sono la sopra? mi stai facendo scudere un polmone io ho visto raga sono dopo la collina dove sono io mi capiscono dove state andando voi bravo io ti cuore la macchina in cazzo e la distruggono ancora oh ho visto la bomba oh mio spaccate i gabbri spaccate i gabbri e perchè stanno bruciando sennò brucia tutto il bosco oh bello bomba leggendario si vola e finio davide che ok un po' lo squalo c'è attenzione dai spadagli le bombe festeggiamo dai sto curando sto curando me ne è rimasto 88 però tu scoppiai a 1 carosi tu scoppiai mi volevo farlo a 4 come le miniciccule stiamo contro 1 raga contro 1 contro 1 stiamo contro 2 dai ah giusto oh sono io bene come sono sti bastardi non c'era tipo questo qua dove dove grazie torer aspetta che non li vedo ride gone un utente ah si qua sono eccoli ah gli stupo con la macchina oh piano aspetta ehhh siamo i più forti siamo i più forti del mondo siamo i più forti del mondo sono le sull'una io sto gridando fra un poco arrivo nei carabinieri che si chiama ma secondo me se dici a gabriele di ballare su tik tok ma gabriele ce l'hai ti gabriele come ti chiami su tiktok che qua ce lo vediamo per festeggiare sono gabriele retro gabriele retro mi chiamo diremo diremo siccome orazio a gabriele retro eccolo qua vediamo che tic tacchica file ce l'ho messo il 6 guida dopo sbagliare a posto ecco questo è gabriele retro ragazzi siamo la sirena avete capito un po il personaggio no ora orazio 2.0 va bene allora ragazzi io ho capito che cosa devo fare nella vita farò gli avengers di tiktok già ci sono due già i due l'avevo uno orazio e gabriele retro metterò insieme alla squadra virale più forte di tiktok catania io ce l'ho due profili tiktok se vuoi ce l'ho un altro profilo e mi seguono anche tantissimi a quando non hai profili solo due va bene ragazzi dai io direi di fare un'altra partita per confermare per dire la vittoria vai vai ci sta se comunque in chat siamo 13 spettatori se in chat c'è una ragazza che somiglia fisicamente ti ho inviato l'altro profilo ti ho inviato alla skin di ciancio mi mandi un messaggio che io davide davide ho inviato l'altro profilo in dare in cosa su tiktok che è l'altro mio profilo secondo profilo però anche rubagno vai 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 facci ora facci ora anche da pesciare e facci ora che stiamo fuori povero gabiano hai perduto la pesciata ascolta ragazzo non drogarti la droga ti appena non è la droga ora si pesce comunque si e io direi nendo ormai arrivamo qua infatti l'unico posto è qua minchia un team qua tutto un team qua pezzi di merda davide ma tu dove sei perché se l'ha sotto più chiaro è casuto vabbè ora prendo qualche anno se no no sto venendo io sto prendo io perché dove volevo andare negli altri scalini c'è c'è il team c'è la team ma vado ma schifo roba sono sono cinque euro di lupo attendo i lupi stanno assicurando i lupi sono diversi spatti di loro mi scappa davide gabrile gabrile che non mi fa una donazione di 200 euro ma la roua a roua a bolletta la luce c'è un gelato c'è luisce ma è maggioro esciviscendo ma e magari 5 si accontenta di poco c'è anche un youtuber alle prime c'è mai col gesto i lubris un dici un dici un dici ma poi di soli si chiama uno strima sono un dici era un twitter chi fai? chi è che fai? chi è che fai? non cazzo chi è che fai o vuoi fai? non cacci i suoi lobetta l'uva è quelli che mi seguivano noi dove sono? e ammazziamo il figlioretto vabbè comunque ragazzi se volete fare una donazione a davide basta che andate su twitch cercate ciancio e fate la donazione lì e i soldi gli arrivano a davide va bene davide ci stai? non ho capito scusami ragazzi se volete fare una donazione a davide andate sul canale twitch di ciancio e fate una donazione lì che c'è il riso da davide no io direi di no io direi io direi di no quello che ci prova no comunque si scherza ragazzi usciti cinquecentomela e ripidati cinquecentomela e ti fai un grattini e per di tendi la contuna se vinci buono 500 male ma ormai ormai penso da subito e 2 ore e 50 una moda erano soldi vabbè erano come cinque minchia caso ai trovati a gioia 1 che mi spara per un altro un mazzo ha fatto quattro puntori a ogni specchio è il suo posto che infatti manco uno vedo e fighi su che fa mulcia vande c'è specifici impazzire o era un ninja arrivando il carro armato davide si figa si frega i scendini vuoi ci dire io non ce l'ho nemmeno uno che non ce l'ho nemmeno uno posso prenderlo qualche esalti a che cazzo ma li bruciano tutti con le luccele ma ci facciamo scoprire meno ci vedono ma lo shop non è non è alle due a seba alle due alle due cazzo ora ti capisco quando non vuoi dire dove abiti una pandemia di orazio comunque qua c'è gente salutala salutiamo dai ciao ma dove stai andando ragazzi inizia ad aspettare quelli che poi vengono da vulcano baule gente sul dirigibile si sparano da qua da qua ragazzi venite arriviamo tipo sfogliato lo stato sparato è brutato sta pulando quello ancora non ci capi niente però faccio che uno ammazzai a uno ammazzai ragazzi è qua il dirigibile io ne ho atterrato uno ciao ma che è oh minchia arrivo ma dove sono ok ok tutto a posto tutto risotto ok è morto qua da me quando gli angi una terra ora vola schievo su morto ho fatto la benzina me la tengo per dopo così ci butto la benzina e scoppiamo bastanti mi fu distrutti così no no tranquilla rip e mitaglietta è giusto però me la lascio minchia me la lascio si fu bomba leggendario sparte no 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 tranquillo 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 forse è meglio callai tumore gente da conno gente da conno venite gli servo una mano conno dove sei conno conno ti serve una mano ok c'è il buono quattro mani c'è il buono tipo buono sono dentro il c'è spuglio ci sono sparetti venite venite ci sono botti capodanno arriviamo ma chi è che l'angelo scintone sono sono a condotti confusi però ci siamo persi si mamma un attimo oh dai chiro a cuccare Gabriele e bambini a quest'ora dormono non sono bambini ah giusto ma è perché domani mi devo fare la vicina devo andare all'ospedale per il madipangere di fare l'ultima e poi vai al lettuccio si ti ricordi quando abbiamo giocato a gta qua ragazzi qua qua aspetta davide aspetta che c'è qui inizia a sparare a terra a terra a terra a terra non ho capito a terra a scopra ci butto le molote sono qua dentro basti qua dentro mi ha scoppiato con una minicicciola la sento la sento la sento la sento la sento la sento la macchina davanti a noi spari venite seguitemi arriviamo dietro l'albero solo di controllo il camion è arrivato passo e scopo mi sono nascosto dietro la collina e ora gli butto la macchina e la faccio a scopo aspetta aspetta gli spruggi qualche spuglia e togliamo beh a bruciare tutto il vostro brava si non moro venga a scelta ma di cammino non ci riguarda oi spariamo che cazzo dov'è dov'è a bruciare tutti gli alberi va non sembra un gruppo solo per fare tavoli eccolo vado a me sono morto con l'albero mi cascavo la volontà questa mi cascavo questo perché non era fissato bene ciancio connor però mi poteva di ristare sinieno che cinghiale è stato attento che si ingazza no stanno arrivando sebbè ma che ti vedi macedonia portogallo ah macedonia portogallo si è da vedere scusa hai ragione arrivano arrivano via 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 ma quanto sono tre oh ma quando uno cerca pure non ci ne ha minchia la sei Connor c'ha tutte le cure c'ha un medikit se io lo puoi dare grazie Connor ok ma come si salva con la scala oh qua c'è la coroncina eh quella mia quella mia quella che ho perso io dove sono madonna ma quanto luce che c'è no ma perché non riesco a prendere ma non era ma sono tutte dorate qua Connor sta rientrando dalla sei fu no era la luce della corona ma è un carammato prenditelo prenditelo c'è un carammato ti aspettavo eh però solo non lo so fino a che Connor ma stava pulando c'è la giamba in caso forse è meglio la giamba eh infatti ragazzi siamo contro tre sei contro tre si sono con la giamba infatti sono qua saranno qua ragazzi e chi è un motorino di ghost rider sai che ti dico? io provo a che sape la scheda ce l'abbiamo? bravo bravo resta chi copre? ah pensavo che non mi poteva restare più ero morto a vita pensavo a vita direttamente grazie Davide mi voglio bene grazie ragazzi ripeto venite venite io sono una pistola aspetta mi devo rifornire 32 32 busciate 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 che sono su stronzo eh c'è un'altra corona per caso qua? per me per me posso qua? 31 traccato 49 bianco 32 morto 1 48 craccato eeeh 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 oggi faccio vedere i carabinieri faccio vedere sta notta non lo faccio rompere a nulla sanno a rosbigliare tutti e prendere in doraggio di 200 metri che non si rompere oggi non si rompere non si rompere facciamo scandale prima win con la corona seba quando non c'è